Buon pomeriggio, è qui il sottosegretario Franzini? Mi sente, scusi? Ma sento Sottosegretario Franzini Nooo, oggi è venerdì 17 Giornata di sciopero generale Eh sì, trasporti, sanità, scuola, oggi tutti i danni è fermo Ma non era fino alle 13, sono le 16.55 Fin alle 13 i trasporti pubblici e tutti gli altri fino alle 17 Vabbè ma insomma sto sciopero quando finisce? Sarà 5 minuti Che poi sta protesta è pure giusta Salve sono Troy McLurr Sto già quando si riesce a andare oltre nel primo quadro È dall'85 che c'è proprio Ah eh Ma che fa? Se ne va? Eh, me ne va così Ma io devo incontrare il sottosegretario Franzini Poteva dirmelo prima, ormai l'ufficio è chiuso Gli avrei fatto una chiamata Ma se lei stava scioperando Io? Ma quando mai? Ma che non m'ha visto? Io sono l'unico che lavora qua dentro Questo è un ministero, qua non si sciopera mai Allora 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 Allora